Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di Viceversa, buon inizio settimana, iniziamo parlando di ambiente e di montagna, ma non solo, faremo un po' una panoramica su tutto il mondo delle risorse agricole, perché oggi è stata presentata, ecco qua, la ricerca del bosco perduto, oggi è stata presentata una manifestazione che punta alla valorizzazione del bosco e del suo sistema economico, anche alla presenza dell'assessore regionale delle risorse agricole Cristiano Schauri, che è qui questa sera, buonasera. Benvenuto, allora oggi ho questa presentazione, questo evento dal 15 al 17 settembre ai leghetti di Timau a Paluzza, un luogo per la prima volta ospiterà questo tipo di iniziativa, intanto qual è la ragione dell'organizzazione di questo evento? Da un lato intanto credo che sia anche un orgoglio per la nostra regione, Boster è una manifestazione storica, si teneva sostanzialmente solo in Piemonte a nord-est, la nostra volontà, la nostra speranza è quella di portarla a cadenza biennale nella nostra regione, proprio per segnare anche l'importanza della filiera bosco-legno, della risorsa bosco, ma anche il baricentrismo della nostra regione rispetto a queste tematiche, quindi portare una manifestazione importantissima di livello nazionale in Friuli, Venezia e Giulia credo che sia già una grande soddisfazione. È fondamentale anche per tornare a discutere sia dei miglioramenti tecnologici che stanno vedendo e che ci possono anche vedere coinvolti nella filiera bosco-legno in utilizzare le risorse boschive, ma penso sia anche fondamentale per riconoscere l'importanza del bosco e della potenzialità di sviluppo economico del bosco stesso per la nostra regione. Devo dire, abbiamo fatto un lavoro importante in questi anni, siamo la regione con la maggior superficie certificata sostenibile boschiva, si chiama PFC, l'acronimo per la sostenibilità ambientale, oggi secondo me dobbiamo passare da una dimensione magari museale solo di sostenibilità all'utilizzo di quel legname tracciabile e sostenibile per dare maggior valore aggiunto alle nostre imprese. Ecco, questo non è un tema da poco, anche perché la qualità e il valore poi del legno che viene anche venduto in Italia o anche in altri paesi è importante anche per quel che riguarda poi le eventuali patologie, le varie batteri che ci possono essere, quindi il fatto che comunque ci sia un legno di qualità che può essere venduto e che proviene dall'Italia sicuramente può avere un valore di questi tempi dove ormai i prodotti che arrivano dall'estero, parliamo dell'alimentare ma questo è comunque un argomento che ci tocca molto da vicino, possono rappresentare un punto di forza. Assolutamente, noi proprio questo investimento importantissimo sulla certificazione del legname legname significa che possiamo garantire al cittadino ma anche alle imprese che utilizzano il legname una perfetta tracciabilità e una perfetta sostenibilità ambientale. Devo dire che stiamo vedendo anche i primi risultati, i primi successi per chi ovviamente ha visto anche sulla stampa non solo regionale ma anche nazionale tutto il parco agroalimentare di Amatrice, alcune importanti infrastrutture a Norcia sono state ricostruite con il legname certificato del Friuli Venezia Giulia e con la filiera Bosco Legno del Friuli Venezia Giulia. Quindi il Friuli Venezia Giulia sempre più viene riconosciuto per questa sua capacità di produrre un legname di grandissima qualità ma anche sostenibile ambientalmente. Boster ci aiuterà ancora di più ad essere centrali e anche ad aiutare i nostri imprenditori in questa opera difficile di meccanizzazione e di miglioramento tecnologico di cui il bosco ha bisogno. Ricordo solo velocemente che è anche una fiera molto innovativa e tutta l'area aperta e quindi oltre un chilometro di possibile visita 75 concessionari quindi aziende private che porteranno le loro macchine lì ma che verranno direttamente messe in funzione lì. Quindi si potrà vedere come si utilizzano in bosco per questo viene fatto proprio in sito a Paluzza ai laghetti di Tmau proprio per far vedere agli operatori ma anche alle famiglie oserei dire come questi macchinari funzionano e come lavorano in legno. Dicevamo che è una fiera dedicata agli operatori però non solo perché ci sono tante iniziative che sono insomma simpatiche anche per i ragazzi e per le famiglie. Sì assolutamente sì noi abbiamo pensato che questa fiera di livello nazionale ribadisco debba essere anche una fiera non dedicata solo ai professionisti del settore ma anche probabilmente alle famiglie che possono da un lato conoscere meglio il bosco ma anche conoscere un po' meglio il nostro territorio quindi conosce certo i laghetti di Paluzza, i laghetti di Tmau a Paluzza ma anche la nostra fauna e la flora dei nostri boschi quindi ci saranno delle visite guidate per chi le vuole fare, ci saranno dei percorsi didattici alla conoscenza dei grandi plantigradi come l'orso ci saranno dei percorsi anche proprio davvero divertenti per le famiglie e per i bambini poi ci sarà anche la conclusione sportiva perché sarà anche l'occasione per la finale del campionato nazionale dei boscaioli quindi ovviamente la tecnicalità, la serietà rispetto a questi macchinari e la loro conoscenza ma anche un pizzico di attività che renderà io spero questa fiera godibile per tutti Ecco ha fatto l'esempio appunto di valorizzare e migliorare anche dal punto di vista tecnico le nostre capacità, la nostra attitudine a sfruttare il bosco noi abbiamo un esempio che è quello austriaco, i nostri vicini dove loro sono maestri da questo punto di vista che cosa si può fare ancora per migliorare ed avvicinarci a quel tipo anche di mentalità? Beh da un lato intanto abbiamo fatto una scelta che troppo spesso secondo me si dà per scontata noi nel nostro programma di sviluppo rurale abbiamo inserito delle misure, cosa che tantissime, quasi la totalità delle altre ragioni non hanno fatto delle misure specifiche per la parte boschiva considerando proprio anche la filiera bosco legno a tutti gli effetti una potenzialità di sviluppo per la nostra agricoltura e per il territorio quindi ci sono dei contributi ad hoc proprio per migliorare la capacità di utilizzare il nostro bosco e di renderlo poi anche una fonte di reddito devo dire che la grande sfida è dare valore aggiunto e quindi la certificazione va bene non accontentarsi diciamo per capirci delle legname da ardere ma dare valore aggiunto anche attraverso le costruzioni, i pannelli l'edilizia in legno e anche su questo stiamo lavorando molto e poi io per l'ennesima volta lo dico anche cercare una maggiore aggregazione fra i nostri imprenditori. Fare rete significa avere quella massa critica che ti permette anche di fare quegli investimenti necessari in termini di modernità, di meccanizzazione, di macchine insomma di ultima generazione a volte gli austriaci su questo ci insegnano, le imprese austriache sono imprese gigantesche per i nostri standard davvero grandi e quindi magari arrivano anche nella nostra regione, anche in Italia a lavorare proprio perché possono permettersi investimenti importanti che le nostre a volte piccolissime imprese non possono fare mettersi insieme, io non dico fondersi perché ognuno mantiene giustamente la sua individualità ma fare rete e costruire delle filiere vere possono essere secondo me il vero punto di svolta per dare un rilancio io su questo insisto molto, un rilancio anche occupazionale nella nostra montagna ci può essere magari l'idea di un incentivo per l'aggregazione? Sì, infatti noi abbiamo pensato molto sul programma di sviluppo rurale di premiare chi fa delle filiere ovvero chi ci dimostra di fare dei percorsi di aggregazione e di lavoro insieme e anche questa è una scelta, ci sono risorse pubbliche, il pubblico per darle dà delle priorità Ecco, diciamo che questo è un problema atavico della nostra terra, no? Qualsiasi esponente politico ma anche del mondo delle categorie economiche che viene qua a parlare ci dice, qui ognuno vuole fare per conto suo Sì, devo dire però io per deformazione professionale e personale tendo, ripeto, a guardare gli aspetti positivi devo dire che negli ultimi anni abbiamo avuto in tutta l'agricoltura dei segnali positivi siamo riusciti a fare dei percorsi di aggregazione e anche ottenere dei risultati non scontati si pensi alla Doc Friuli sulla vitivicoltura, si pensi ad altri risultati che sono figli della capacità di mettersi insieme e devo dire che anche sulla filiera Bosco Legno, i risultati di cui parlavo prima, da matrice il riconoscimento per la nostra capacità sia di costruzione che di valorizzazione del legname sono arrivati perché non una singola impresa si è presentata e si è offerta in quel contesto ma c'è stato davvero la capacità di creare una filiera e con quella filiera siamo diventati più credibili e abbiamo ottenuto anche quei risultati, quindi qualcosa si sta muovendo, bisogna continuare a insistere e a supportare questi percorsi Stavamo vedendo delle immagini di boscaioli più tradizionali come tipo di attività e di tecnica ma tornando invece all'edilizia di cui lei ha parlato, mi sembra che questo possa essere uno strumento interessante anche perché la bioedilizia è già da molto tempo che si è diffusa e che viene scelta nonostante non abbia proprio dei costi così alla portata di tutti però mi sembra che rappresenti davvero un'opportunità Assolutamente sì, noi siamo la regione del Modon, come si suol dire per noi friulani e quindi abbiamo dovuto anche crescere culturalmente rispetto a questo percorso e vedevamo magari per un certo periodo le case in legno come delle case che non appartenevano alla nostra tradizione invece credo che siano fatti dei passi da gigante in questo, sia in termini di antisismicità il legno è di per sé un materiale fortemente antisismico sia in termini di capacità costruttive, di velocità permettetemi anche in termini di bellezza ora ci sono ovviamente delle case fatte interamente in legno che sono di una bellezza eccezionale sono fatte nella nostra regione e davvero stanno rappresentando un settore che sta crescendo molto e che può rappresentare anche un volano di sviluppo ulteriore nei prossimi anni Anche in termini di efficienza energetica comunque è uno degli aspetti su cui anche la Giunta ha lavorato molto Assolutamente sì, devo dire che poi la filiera bosco-legno è di per sé qualcosa che attiene fortemente la sostenibilità ambientale adesso potrei dire che una battuta del legno non si butta via niente ovviamente quindi fra il cippato, fra i pannelli, fra le case in legno cioè fino alla legna da ardere e quindi alle biomasse legnose quindi c'è all'interno della filiera bosco-legno un overo di possibilità amplissimo da questo punto di vista, ripeto, tutto sta nel non cadere negli estremi della discussione né consumare bosco senza regole che potrebbe essere deleterio e dannoso sia per l'ecosistema ma anche per la bellezza del nostro territorio ma neanche avere una visione, devo dire, museale del bosco ovvero è bello così non si può toccare credo che il bosco debba essere gestito, gestito in maniera moderna e sostenibile se prendiamo questo come obiettivo penso che veramente l'ipotenzialità di sviluppo ce ne sia davvero ancora molto Ecco abbiamo parlato di montagna, torniamo un attimo a approfondire il discorso dello sviluppo proprio dell'economia montana il bosco sicuramente è una delle prime risorse per quel che riguarda invece gli altri settori anche questo periodo di siccità ha penalizzato anche la montagna o solo la pianura? Beh, questi periodi di siccità hanno penalizzato un po' tutti sono dei periodi, ahimè, a cui credo dovremmo abituarci come abbiamo visto non sempre sono una siccità su un anno solare intero che ci fa dire che ci sono dei disastri o una mancanza totale d'acqua però ci sono periodi prolungati con mancanza d'acqua e poi magari degli eventi quasi calamitosi con queste piogge torrenziali e anche con i problemi che abbiamo visto in questa settimana a me il cambiamento climatico è sotto gli occhi di tutti ormai da molti anni e sono convinto che anche su questo dobbiamo prepararci e lavorare come regione abbiamo fatto una scelta importante io credo in questi anni abbiamo deciso ad esempio che non c'è futuro per un'agricoltura se non ragiona su un moderno sistema irriguo e anche sul risparmio idrico ovvero acqua al servizio dell'agricoltura in maniera moderna e anche ovviamente un servizio capace di risparmiare la risorsa acqua che sarà sempre più importante nei prossimi anni quindi abbiamo investito circa ormai da tre anni 12 milioni di euro all'anno proprio per migliorare il sistema irriguo regionale credo che questo sia fondamentale per oggi ma soprattutto per il domani dell'agricoltura e anche della sostenibilità delle attività antropiche della nostra regione E proprio recentemente avete stanziato quasi altri 2 milioni di euro 1.700.000 euro per i consorzi di bonifica Agli 11 milioni e mezzo che ricordavo prima abbiamo aggiunto altri 2 milioni e mezzo proprio perché ci erano stati segnalati dai consorzi di bonifica delle richieste specifiche faccio un esempio per tutti, concludiamo un lavoro importante sul costone carsico a Trieste continueremo in quel percorso che stiamo facendo sugli invasi irrigui soprattutto nella zona collinare della provincia di Udine cioè quindi tutti strumenti che ci permetteranno di affrontare anche queste carenze d'acqua con un pizzico di ottimismo in più Sì, anche perché come diceva giustamente lei nei primi 9 mesi dell'anno si è registrato un deficit del 40% di acqua i 9 mesi più secchi dal 1800, questo in Italia, non solo nella nostra regione noi ce la caviamo ancora abbastanza bene anche se la situazione è drammatica agosto l'abbiamo visto, il terzo mese più caldo sempre dal 1800 e anche i previsori dell'Osmer ci dicono d'ora in poi dobbiamo abituarci a questo sempre meno precipitazioni, temperature più alte e anche la neve insomma sarà più difficile vederla nel senso non a brevissimo termine ma nel lungo termine il riscaldamento globale sta determinando questo e quindi anche immagino che chi opera nell'agricoltura debba tenerne conto penso che sia fondamentale, nel senso c'è la parte che riguarda il sistema irriguo ma c'è la parte anche se volete previsionale e tecnologica sempre più l'agricoltura di precisione ci fa capire quando c'è necessità di umidità quando c'è necessità di irrigazione nelle nostre coltivazioni quindi dovremmo riuscire a irrigare in maniera molto più puntuale molto più collegata al bisogno della specifica coltura anche ormai con meccanismi satellitari dovremmo abituarci a capire che la risorsa acqua diventerà un bene assoluto e quindi gestirla al meglio può sembrare quasi brutto quando si parla d'acqua ma gestire al meglio potrebbe essere un vantaggio competitivo anche economico per la nostra agricoltura anche perché comunque essendo un bene comune bisogna stare proprio attenti a preservarlo sempre di più bisogna ormai pensare in maniera differente rispetto a quello che siamo abituati sfatiamo insomma il mito che in regione piove sempre insomma piove ma in friuli che l'abbiamo già sfatato quest'anno sì purtroppo quest'anno ci ha già contraddetto fra le ultime notizie invece che riguardano il suo assessorato anche il miele sarà inserito fra i prodotti acqua che è il marchio dell'ERSA e della nostra regione come sta andando questa promozione del marchio intanto? io sono soddisfatto anche qui va un po' spiegato il marchio acqua agricoltura qualità ambiente è il marchio del chilometro zero della regione Fiumenza Giulia sostanzialmente la regione ci mette la faccia nel garantire ai cittadini che quei prodotti vengono dall'inizio alla fine elaborati nel raggio di 90 chilometri quindi tutto quello che ha un marchio acqua è un prodotto esclusivamente diciamo regionale del nostro territorio ma devo anche ricordare sempre che è un marchio che è riconosciuto dalla comunità europea cioè quindi non è una scelta autonoma della regione di dire quanto bravi siamo e che bello è il nostro territorio non è autoreferenziale è un marchio riconosciuto tutti gli effetti della comunità europea di cui solo noi possiamo affreggiarci e che poi ha queste regole specifiche e c'è anche devo dire la verità e questo forse è il miglior segnale di riuscita del percorso c'è da un lato una crescita costante noi li chiamiamo concessionari ovvero chi chiede di aderire al marchio acqua e quindi da questo nasce anche la richiesta dei produttori di miele di potersi freggiare anche loro nel marchio acqua e devo dire c'è anche un crescente interesse da parte della distribuzione anche della grande distribuzione che sempre più vuole presentare ai suoi cittadini anche il chilometro zero e quindi nel marchio acqua vede la possibilità di presentare al consumatore il prodotto regionale il prodotto a chilometro zero ecco per quel che riguarda la raccolta del miele la produzione del miele com'è quest'anno la situazione che riscontro ha avuto dai produttori? ma la produzione del miele anche quest'anno è indubbiamente in difficoltà è già diversi anni che è in difficoltà sia per diverse malattie delle api in altre realtà per fortuna non molto ancora da noi anche per degli organismi all'octone come la vespa velutina che attacca le api però quindi è una produzione davvero in difficoltà credo che anche lì abbiamo cercato di dare dei sostegni ulteriori anche per il passaggio biologico proprio per dare un segnale agli apicoltori sapendo che effettivamente stanno patendo e stanno avendo grandi difficoltà e sappiamo che quando le api non stanno bene i segnali per l'ambiente e per l'agricoltura non sono positivi non sono positivi prodotto tradizionale il miele invece ce ne sono altri innovativi che verranno finanziati dalla regione se non mi sbaglio anche grazie allo sviluppo dei nuovi prodotti del programma di sviluppo rurale fra questi nuovi prodotti che cosa potremmo vedere? noi abbiamo fatto questa misura che tende e prova ad essere innovativa sappiamo adesso senza entrare nei tecnicismi che la comunità europea ha un elenco di prodotti agricoli ci sono dei prodotti però che non stanno in questo elenco e che possono essere comunque una fonte di reddito e anche una possibilità di presentare qualcosa di diverso per le nostre aziende agricole si va dalla birra che non era considerata fino a poco tempo fa un prodotto agricolo fino a produzioni penso al tofu o a produzioni che in questo momento possono avere ma anche la cosmetica anche la cosmetica fatta con prodotti naturali e quindi magari con coltivazioni agricole anche questa è un po' una tendenza sempre più comune assolutamente sì quella di utilizzare prodotti anche realizzati in maniera biologica si poi diventa anche un modo c'è questo tecnicismo che a me non piace ma questa idea che si chiama multifunzionalità nell'impresa agricola per cui al di là della produzione del prodotto principale dell'azienda che sia il cereale piuttosto che il vino piuttosto che il latte ci sono la possibilità di produrre dei prodotti secondari che magari danno reddito all'azienda credo che su questo effettivamente si possa ancora lavorare vedo che anche le risposte che abbiamo sulle domande del programma di sviluppo rurale sono importanti io penso che molti agricoltori stiano sperimentando anche percorsi di questo tipo ha provata questa graduatoria quindi adesso quali saranno i prossimi step per l'elaborazione di questi nuovi prodotti? beh adesso poi ognuno ha presentato un progetto per l'elaborazione di prodotti su quello c'è stato fatto un punteggio è stata strutturata una graduatoria allora poi adesso starà loro semplicemente portare avanti il loro progetto e rendi contare le spese su cui... ce n'è di curiosi? sì ce n'è di abbastanza curiosi quindi vedremo poi l'esito anche del percorso tornando alla siccità per quel che riguarda la vendemmia quali sarà stato il risultato delle condizioni meteorologiche? ma allora diciamo che la vendemmia e la vitivinicoltura in generale ha vissuto sicuramente un anno difficile perché abbiamo avuto degli eventi particolari abbiamo avuto prima di tutto una vegetazione anticipata perché abbiamo avuto un inizio di primavera molto anticipato con dei caldi anomali e quindi con le viti che avevano già cominciato a vegetare poi c'è stato questo fenomeno della gelata improvvisa che ha creato un sacco di problemi e quindi anche una perdita importante e poi ci sono stati questi due momenti di forte criticità data dal tempo dal vento molto forte che abbiamo avuto nelle scorse settimane quindi quattro eventi anche difficili per la vitivinicoltura che probabilmente ci portano da un lato a dire che avremo un raccolto inferiore agli anni precedenti io non sono molto pessimista quindi attesterei questa minore produzione dal 10 al 15% meno questo non significa però che non avremo una qualità delle uve almeno anche dalle prevendemmiali che hanno fatto i diversi consorzi una qualità delle uve che si preannuncia davvero davvero buona ovvero una qualità molto alta perché anche le condizioni climatiche hanno aiutato da un lato una piena maturazione ma anche nel nostro caso non una sofferenza idrica così forte quindi delle uve probabilmente molto molto di qualità che ci permetteranno di fare anche spero e auspico dei vini di qualità quindi semplicemente una minore produzione che però io sono convinto può essere compensata dalla maggiore qualità bene adesso l'ultima domanda chiedo di svestire i panni di amministratore vestire quelli di politico c'è stato un confronto all'interno dei democratici? Sì c'è stato un confronto Siamo arrivati a una definizione dei ruoli in vista delle sfide del prossimo anno del 2018 C'è stata giustamente come normale io credo ormai degli ultimi partiti popolari con le regole dei partiti rimasti all'interno di un partito c'è stata una direzione regionale su cui ci siamo confrontati in maniera serena, aperta e pacata e quindi ci siamo detti che prima di tutto si parte dalla dimensione programmatica dall'idea e dalla prospettiva che vogliamo dare alla regione al friore di Venezia Giulia del 2023 e allo stesso tempo si comincia a ragionare su questo anche delle alleanze il candidato verrà di conseguenza ovviamente se non dovesse essere e se non dovesse ricandidarsi Deborah Saracchiani si partirà dall'ipotesi del Vice Presidente da lì si partirà ma ripeto non rovesciamo il percorso non è che si pone prima la candidatura nostra del PD a tutti gli altri eventuali nostri alleati e poi si ragiona di programma e di alleanze si parte con il programma con le alleanze e poi tutti insieme troveremo la sintesi sul candidato Lei comunque sarà dichiarato disponibile? Io ho semplicemente detto che non sgomito ho sempre fatto nella mia carriera politica un passo alla volta prima di fare il sindaco ho fatto il vice sindaco e quindi non pongo la mia candidatura perché penso che non sia opportuno in questo momento che nessuno sia autocandidi penso che sia giusto dire che il PD ha diverse opportunità che ha delle risorse e che insieme però insieme al nostro partito insieme ai nostri iscritti si deciderà qual è l'opzione e l'opportunità migliore per tutti Allora vorrà dire che quando ci sarà il nome definitivo si festeggerà con un tiramisù made in FWG vero? Io spero assolutamente che si festeggi comunque con un tiramisù made in FWG e di questo al di là delle battute sono contento sono orgoglioso che questo riconoscimento sia arrivato come ho detto più volte è un riconoscimento soprattutto a saper fare della nostra regione e alle famiglie che hanno inventato quel dolce ormai famoso in tutto il mondo poi io spero che chiunque sia il candidato si possa festeggiare in ogni caso sicuramente con un buon tiramisù con i nostri ottimi vini e con i nostri ottimi prodotti Grazie all'assessore regionale Cristiano Sciaurli con questa potata di viceversa abbiamo terminato vi ringraziamo per averci seguito torniamo domani come sempre a 19.30 a 19.30